Partiti! In questo istante partite ufficialmente! E si va! Buongiorno a tutti! La maratonina dell'Emino è partita! Eccola qua giusti! E tutti i partiti partiti! Salutiamo e ringraziamo anche il nostro giro! Da Rwanda e da Alvinia! Marino Basha prima! Il coach Josh Kipruko! Al passaggio! Primo passaggio per loro! 24 secondi rotti! E dietro era attesissimo infatti! Francesco Mascherpa! Class 95! Il mortissimo italiano! Checco tra gli italiani! Alla New York City Marathon! Con il giorno 21 al passaggio! Adesso Mohamed Elkampi! E passa con il 188 Giorgio Soldani! Dei Rangers Ventimo! Checco! 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 Checco!